E da allora non è più tornato. Fino ad oggi, 2008, sono passati quattro anni e non ho niente. Posso condurre una vita normale, posso camminare a lungo, posso stare seduto ai convegni per ore, posso portare cose pesanti, fare lavori domestici, giardinaggio, eccetera. E la gioia di vivere è tornata. Grazie Bruno e grazie alla vita. Ho avuto il mio primo attacco di emorroidi nel 1971. Avevo 40 anni allora. Non sapevo cosa fosse. Sono andato da un medico che mi ha dato una cura all'opatica che all'epoca ha migliorato il problema, che con il tempo sembrava risolto. Bastavano tre o quattro settimane di riposo e tutto tornava in ordine. Per quattro anni ho avuto regolarmente circa due attacchi all'anno. Il trattamento era sempre lo stesso, però ogni volta era fastidioso perché per tre o quattro settimane non potevo andare a lavorare. Inoltre non potevo neanche condurre una vita normale, portare cose pesanti, camminare a lungo e non potevo stare seduto a lungo. In aggiunta ai dolori era anche molto limitante perché si ripresentava regolarmente. Dopo il 1975 ho trovato delle terapie naturali, fitoterapia, omeopatia, naturopatia, magnetoterapia. Tutto questo ha portato un certo miglioramento. Mi ha aiutato a superare le crisi un po' più velocemente. Tuttavia il disturbo era ancora lì con la stessa frequenza. Non ne venivo a capo. Ero in difficoltà e anche giù di morale perché ogni volta che provavo una nuova terapia pensavo fosse quella giusta. Ma di volta in volta il mio morale scendeva sempre di più. Tutto questo è durato fino al 1981, finché ho trovato un trattamento omeopatico che sembrava funzionare perché accorciava le crisi. Se ero molto attento ai segnali iniziali della crisi che si annunciavano, prendevo il trattamento immediatamente e allora durava solo qualche giorno. Ma il disturbo tornava sempre, quindi non era risolto. Tutto questo è durato finché non ho cominciato a fare yoga, rilassamento profondo eccetera. Questo ha migliorato nettamente la situazione. Ho anche frequentato dei gruppi spirituali. Tutto ciò mi ha aiutato a rilassarmi profondamente e a liberarmi dalle mie paure. Ero convinto nel profondo che esistesse la soluzione per il mio problema e anche per tutto ciò che nella vita mi opprimeva. Quindi ho mantenuto questa convinzione e una speranza molto ferma. Avevo ragione perché ho incontrato l'insegnamento di Bruno Gröning nel 1998 in un articolo su BioContact. Questo articolo mi ha permesso di mettermi in contatto qualche tempo dopo con la comunità di Parigi dove sono stato introdotto nel 1999. Poi sono andato regolarmente a Parigi tre, quattro volte all'anno e ho fatto Einstein a casa con mia moglie e tutto è andato molto bene. Ma c'erano ancora piccole cose che emergevano ogni tanto, delle piccole avvisaglie. Nel 2002 ho aperto una comunità in Bretagna a 600 km da Parigi perché a quel tempo non potevo più andare regolarmente là. Tutto è andato bene fino al 2004. Nel 2004 ho avuto una crisi enorme nel mezzo della notte che mi ha svegliato. Era qualcosa di assolutamente incredibile che non avevo mai sperimentato. Ho avuto paura e ho pensato resto sdraiato per un po' perché non so cosa mi sta succedendo adesso. Forse qualcosa di grave, mi dovrò operare, non so come finirà. Questo è durato solo dieci minuti. Dopo dieci minuti ho detto no Bruno, questo non è possibile, non lo accetto. Ho fatto Einstein. Ho detto reggelungen, reggelungen, reggelungen e poi grazie, grazie, grazie e l'ho ripetuto per ore finché mi sono addormentato. Non so quando mi sono addormentato ma la mattina dopo mi sono svegliato come al solito e non avevo più nulla. Solo una sensazione di gioia e di leggerizza. Non potevo credere ai miei occhi. Tutto era completamente sparito e da allora non è più tornato. Fino ad oggi, 2008, sono passati quattro anni, non ho più niente. posso condurre una vita normale, posso camminare a lungo, posso stare seduto ai convegni per ore, posso portare cose pesanti, fare lavori domestici, giardinaggio, eccetera. La gioia di vivere è tornata. Grazie Bruno e grazie alla vita.